Cari amici telespettatori di Tribuna Politica Web e Legnano Web TV, un buon poveriggio da Axel Paderni. Come vedete oggi abbiamo l'occasione di parlare di arte e abbiamo l'onore di avere Ernesto Paleani, un esperto d'arte, perito di opere ed arte e una persona molto legata alla Repubblica di San Marino. Innanzitutto io parto con ringraziarla di aver accettato questo nostro libro. Ringraziamento il mio perché la comunicazione è sempre qualcosa di importante, particolarmente sull'arte in un periodo come adesso che i musei sono chiusi, biblioteche chiuse, è molto difficile visitare le opere, è molto complesso. Indubbiamente, come ha detto lei, anche un po' la nostra opera di continuare a voler parlare d'arte e far vedere al pubblico anche molte volte musei che purtroppo sono chiusi, chiaramente è una cosa molto importante soprattutto in questo periodo. Ma giustamente partendo da quello che è San Marino, lei ricordiamo che ha curato la mostra sul Novecento Russo con il Museo Kuchuk. Certo, infatti l'incontro a San Marino è stato per me un qualcosa di importante perché anni prima avevo fatto uno studio sopra una collezione di un grande privato milanese che ha un museo sull'avanguardia russa, l'abbiamo denominato Novecento Russo. Ho fatto una perizia giurata in tribunale, quindi ho studiato tanto le opere. Ho proposto questo a San Marino e grazie all'amico in comune Alberto Chezzi siamo riusciti a organizzare la mostra a San Marino, quindi il mio evento a San Marino a Palazzo Graziani è stato proprio per espurre questa collezione privata, poco conosciuta. E qual è stato il grado di apprezzamento a questa mostra? Beh è stato inaspettato perché chiaramente è un periodo molto particolare quello dell'avanguardia quando sia scrittori che artisti erano controllati, le opere erano controllate, un regime dittatoriale dove l'artista non poteva esprimersi neanche lo scrittore e la maggior parte infatti sono fuggiti in Europa, particolarmente in Francia. E quindi l'interesse anche non solo a vedere le opere ma a conoscere il retroscena storico di quanto avevano sofferto questi artisti ha dato un gradimento importante. Secondo lei invece, chiaramente cambiando argomento, beh ricordiamo lei è anche editore, ha scritto veramente tantissimi libri, beh sinceramente mi viene da dire che poi lei è anche un grandissimo esperto di Leonardo da Vinci, anche infatti diciamo che purtroppo a male in cuore, visto il periodo, ci doveva essere anche un'importante mostra di Leonardo da Vinci al quale avevamo avuto peraltro anche l'edito a Lugano, Leonardo in experience, purtroppo l'annullata però diciamo che il caso ha voluto che abbiamo incontrato lei che è un esperto, insomma lei ha scritto anche dei libri molto importanti su Leonardo da Vinci e ha anche analizzato anche delle sue opere. Guardate, su Leonardo io ho fatto in tempo prima del Covid nel 2019 a organizzare una mossa a Sasso Corvaro qua nell'entroterra pesarese, proprio su Leonardo da Vinci. Tutto è nato su Leonardo perché tempo fa fui convocato da un collezionista estero in Svizzera per fare l'analisi su un Leonardo poco conosciuto dal pubblico chiaramente ma conosciuto nel mondo dell'arte e della scienza che è questo, in pratica Leonardo da Vinci e San Giovanni Battista con la ciotola nella mano destra. Già erano state fatte le analisi da un laboratorio scientifico di Milano, lì a Lugano, in questo spazio. Già Maurizio Marini, il grande esperto, ha fatto gli studi, famoso Maurizio Marini nel mondo dell'arte e in ultimo hanno voluto la mia ultima parola e quindi io col mio laboratorio sono andato dentro questo cavo di questa banca e ho verificato se era veramente autentico perché bisogna stare attenti su Leonardo. Leonardo aveva una sua scuola, aveva ragazzi che lo seguivano. In genere gli artisti quando danno una scuola danno un'impostazione all'opera e poi fanno fare altre cose ai loro addievi. Quindi distinguere un Leonardo da Vinci solo di mano di Leonardo, distinguere un Leonardo di Leonardo e bottega, o distinguere un Leonardo attribuito a Leonardo diventa complesso. Quindi l'analisi di laboratorio sono quelle che determinano che cosa? Lo strato di imprimitura, sia quello iniziale dell'opera, le velature che sono classiche di Leonardo, ma quello che è fondamentale se ci sono disegni sotto o ci sono delle cose particolari che identificano l'imprimitura dell'opera. Nel caso del San Giovanni io ho identificato che prima di tutto ho utilizzato una punta d'argento per dargli dei piccoli segni, l'ho individuato dentro l'opera. Secondo ho individuato tutte le velature, terzo tutti i pigmenti, opera solo esclusivamente di Leonardo, ma grazie anche a un disegno che aveva la regina Vittoria, quindi un disegno detenuto dai regnanti inglesi, che rappresentava, il Pedretti aveva definito l'angelo incarnato, altro non era che il Caporotti, Salai, Salai vuol dire satana quasi, e il Salai che era l'allievo di Leonardo. In pratica lui ha preso qua come modello il Salai e da qui il disegno che ha riprodotto e ha costruito quest'opera. Se vedete questo San Giovanni però è anche San Giovanni dell'Opera. Cosa ha fatto? Ha fatto ruotare, in pratica ho scoperto che ha fatto ruotare il braccio, quindi in tutti i suoi studi del braccio e della mano ha fatto ruotare tutto. Ma la scoperta grande è stata la ciotola. La ciotola è identica alla ciotola dell'ultima cena, perché quel tipo di... Io ho fatto una verifica tramite amici, in tutti i musei che riguardano ceramiche dell'epoca, non esiste una ciotola simile. La ciotola è la ciotola di Leonardo. Quella è la ciotola che ha disegnato Leonardo. È una ciotola che figura, anche rappresentata in piccolo, in un disegno della battaglia di Anghiari. Quindi questo grande studio che ho fatto è uscito poi con identificare l'opera in Leonardo da Vinci. Ecco, quindi questa è una cosa molto particolare. E voi dovete capire l'eccitazione per uno studioso, no? Che va al di là di tutto. Prima di tutto avere in mano un'opera di Leonardo, ma poi riuscire a penetrare nel suo pensiero, nella sua opera. Ed è un peccato che l'anno di Leonardo doveva finire nel 2020 e non è finito. peggio Raffaello, perché Raffaello è morto giovane, è morto pure tutte le sue mostre, in pratica non sono state fatte. In cui si esce un mio libro su Raffaello da Sanzio. Beh, che dire, sono veramente impressionato ad ascoltarla. Le dico la verità anche per me. È un momento assolutamente, direi, molto emozionante, ma mi tolgo una curiosità, signor Ernesto. Chiaramente, lei che studi ha condotto per arrivare, diciamo, a questi livelli? Allora, prima di tutto devo dire grazie. Io sono nato in una famiglia ambiente. Mio padre era un avvocato, mio nonno era un avvocato e un grande studio legale di Roma. e quindi a tavola mio padre mi parlava in latino perché era anche avvocato della Sagra Rota. Quindi io fin da piccolo, diciamo, ho vissuto in un ambiente particolare. Mia sorella, per esempio, Maria Teresa, è archeologa al Vaticano, è la più grande esperta al mondo sulle lucerne palio-cristiane ed ebraiche. C'è quindi una famiglia particolare. Il fratello di mia nonna era il capo restauratore del Museo Etrusco di Villa Giulia. Quindi l'ambiente delle volte incide molto. Quindi il mio percorso è questo. Poi ho studiato, ho fatto il liceo classico all'Istituto Pontificio Pio IX in Vaticano. E quindi lì il latino e il greco si studiava, lì l'arte si studiava veramente. Quindi già un primo impatto l'ho avuto così. Poi quando io sono venuto, ho fatto i primi due anni di giurisprudenza a Roma, in un periodo del 68-69, quando c'erano i movimenti studenteschi, quando era impossibile frequentare, e quindi mio padre mi ha detto vai a Urbino, finisci a Urbino che è un ambiente più tranquillo. Ad Urbino chiaramente in questo ambiente mi sono specializzato su giurisprudenza, ma su quello che è il mondo antico, quindi diritto romano, ho fatto gli esami di papirologia giuridica in greco tolemaico, quindi tutto un percorso proprio dedicato alla giurisprudenza, ma diciamo sull'arte già, era una prima base. Appena laureato chiaramente in diritto canonico mi sono laureato, e quindi il latino lo conosco abbastanza bene. Da quel momento ho cominciato a fare praticante procuratore presso mio padre, ma ahimè io a 28 anni l'ho perso, mio padre è morto giovane, e qui dovevo fare una scelta. Già stavo nell'Archeoclub d'Italia, perché sono stato consigliere nazionale dell'Archeoclub d'Italia, e Buffetti, proprio Buffetti, in una riunione perché faceva parte il famoso Buffetti, mi disse, ma Paleani ma scusa, tu stai bene, devi pubblicare un libro, che è quello su Cagli, sull'archeologia di Cagli, che è stata scritta da mia sorella e altri due archeologi, ma perché non fai la tua casa editrice? Ecco com'è nata la casa editrice. Quasi faccio la casa editrice, ho presentato il volume al premio d'Italia Nostra, sono arrivato primo con quel libro, e da lì mi è scattato tutto, perché mi hanno chiamato l'università, mi hanno chiamato biblioteca, già da lì è scattato tutto, è scattato in pratica un percorso che non immaginavo, e mi sono specializzato, ho pubblicato 300 libri sui beni culturali, ne ho scritti 45, e quindi per me, come lo vedete, è una passione, è qualcosa che mi emoziona ogni volta che ne parlo. Devo essere onesto, anche io mi sto emozionando molto per ascoltarla, ma chiaramente lei è, come abbiamo detto, curatore d'arte, editore perito chiaramente di opere d'arte, ma lei è anche giornalista pubblicista dell'Unione San Marinese dei giornalisti e reporter. Sì, quello grazie al benestare del Presidente e del Consiglio mi hanno reputato, io ho una mia rivista che ha 40 anni, perché quest'anno sono 40 anni, si chiama Paliani News, che è online, vado online, lì c'è tutto il percorso di quello che faccio durante il mio lavoro, tutte le perizie che faccio, tipo l'ultimo numero, le perizie ho fatto su un Balla, su un Boccioni, su un Paolo Veronese, Cagliari, la presentazione di Gesù Infante al Tempio, e adesso sto facendo un Luca Scranach, il giovane, quindi io pubblico tutto, pubblico ed è in primo piano, adesso posso scrivere giornalista, in pratica di San Marino, ne faccio grande pubblicità. Su San Marino, entrando nel particolare, sta uscendo, perché sono 7 anni di lavoro, sta uscendo un volume, due tomi di 800 pagine, di inedito, di inedito che vuol dire che già molte cose dette, ma commentate, ristudiate da me, su un periodo particolare di Leonardo da Vinci, Leonardo e Cesare Borgia. Cesare Borgia doveva conquistare le Romagne, Cesare Borgia doveva diventare il nuovo re d'Italia, Alessandro VI il padre, perché un Papa padre di Cesare, padre di Lucrezia Borgia, faceva in tutti i modi che Cesare, chiamato il Valentino perché Luca di Valentinois in Francia l'avano fatto, doveva in pratica controllare il nostro territorio, quindi quello delle Marche, territorio dell'Umbria, la Romagna, e quindi ho detto ma che cosa è stato scritto? Io da editore, perché in genere quando vado alla mostra del libro a Torino, che io sono sempre presente con la regione Marche, vado per quei sette giorni, cinque giorni, li dedico a verificare tutto quello che è pubblicato e che è stato pubblicato. Mi sono accorto che su Leonardo e Cesare Borgia tutti hanno scritto una pagina, mezza pagina, due pagine, di 800 pagine, ma non perché sono bravo, perché io dico che le cose le abbiamo sotto gli occhi. Quindi girando per le biblioteche, girando per gli archivi privati, per gli archivi pubblici, ho scoperto cose che erano sotto gli occhi di tutti, tipo il manoscritto del Fantacuzzi, dice Sena, i vari manoscritti che troviamo all'Oliveriana, i manoscritti che troviamo alla Maledestiana. Abbiamo tutto sotto gli occhi delle volte su un argomento particolare, che è stato invece una cosa importante, perché Leonardo in quel momento ufficialmente aveva avuto un diploma postumo, perché quando lui è partito con Cesare Borgia l'aveva preso come nei servizi segreti, doveva essere l'architetto che doveva controllare le fortificazioni come devono essere difese, se andavano bene o se devono essere trasformate. Questo periodo, il 1502, è stato un periodo particolare, perché Guido Baldo, duca d'Urbino, è stato ingannato da Cesare Borgia che gli fece mandare tutte le bombarde a Senigallia ed è entrato dentro Urbino, ed era il cognato, quindi un periodo particolare, 1502, Leonardo dal 21 giugno al fine di settembre, il 21 giugno in pratica lui sta a Cagli, il 22 sta a Urbino fino al 30 di luglio. È possibile, io dicevo, che da 21 giugno documentato al 30 di luglio che Leonardo, una mente così, hanno scritto due o tre righe, ma non è possibile. Io sono riuscito a scrivere 200 pagine che cosa ha fatto Leonardo lì. Allora, primo era arrivato il Machiavelli per fare pace tra Firenze, Urbino e Cesare Borgia, quindi grandi personaggi. Poi erano arrivati tanti altri personaggi, tutti quei personaggi in pratica che avevano interesse di mediare tra Borgia e Guido Baldo. Quindi ho affrontato non solo il tema a livello archivistico, ma ho girato a piedi il territorio. Gli ho detto, infatti ho chiamato, se lo vedete su internet, camminando con Leonardo. In pratica ho ricostruito da Roma il percorso che ha fatto Leonardo con Cesare Borgia, perché lui per esempio a Acquapertita, a Acquamildente, a Foligno, a Cantiano, tutti i territori che lui ha percorsi lo ripercorsi. Lo ripercorsi perché volevo vedere con i miei occhi cosa poteva vedere Leonardo. Ma dove? Non nelle strade asfaltate. Ho ricostruito tutti i percorsi e le strade interne dove dovevano passare i carri, dove lui doveva portarsi i suoi servitori, dove lui dichiarato ingegnere architetto ufficiale doveva avere un seguito. Per esempio la misurazione di Urbino, delle mura, alla misurazione di Cesena, l'impianto a Vulo d'Uccello di Imola, una cosa favolosa, cosa impensabile. Tutto questo però poi dopo l'ha impostato ma non l'ha mai potuto realizzare, perché poi dopo Cesare Borgia è stato spodestato, Alessandro VI è morto nel 1503 e quindi non c'è stata più la possibilità. Leonardo poi è andato prima a Firenze, poi a Milano e poi è andato in Francia. Quindi ricostruire questo percorso è stato costruito facendomela a piedi, è andato negli archivi. Io per due anni ho girato l'Italia, tre mesi a Cesena, ho stato a Cesena, otto mesi a Urbino, otto mesi a Roma, ho girato tre mesi a Tavuglia, quindi per ricostruire è stato un grande sacrificio, però l'ho fatto volentieri perché è uscito fuori un qualcosa che reputo di importante, quando uscirà poi me ne darò copia chiaramente e per me è un qualcosa di particolare. Vi voglio far vedere come io studio. Per ogni libro, per ogni operazione che faccio, ne ho pure lì, tipo questo di Leonardo sono tre volumi così, in pratica sono manoscritti, io prendo gli appunti quando giro manoscritti, poi ricostruisco i manoscritti di Leonardo, vado a riverificare tutto e in pratica appuntando in questo modo, vedete, per esempio questo è del Codice Atlantico, due paroline su Fossombrone, non fare quello che hanno fatto a Fossombrone. Che cosa hanno fatto a Fossombrone? Cesare Borgia aveva i suoi agenti segreti, ma un traditore di Fossombrone, dentro il castello di Fossombrone c'erano i cunicoli, i famosi cunicoli che aveva costruito Francesco di Giorgio Martini, dove Leonardo dice stato attento ai cunicoli, perché il cunicolo può essere di salvezza per quello che fugge, ma può essere, come è successo a Fossombrone, il cunicolo di soccorso, sono entrati nel cunicolo dentro il castello. Quindi tutti questi percorsi l'ho ripercorsi, sono stato a Fossombrone, sono andato dentro il castello di Ruto, sono andato a ricostruire il cunicolo, ho ritrovato il cunicolo, ho ritrovato nei documenti tutto e ho ricostruito il cunicolo quello che Leonardo citava. Quindi anche Urbino per esempio, una cosa particolare che in genere non fanno tutti, l'ho verificato, io ho ricostruito con GPS il disegno di Leonardo che ha fatto dei muri di Urbino. Io col GPS sono andato punto per punto un mese di lavoro, quindi io ho creato un GPS per i ragazzi, per i giovani, per il turista, che se vanno col GPS possono andare nel punto preciso dove è stato Leonardo a prendere quella misura. Quindi questo è quello che affascina. Assolutamente penso che chiaramente mi sta affascinando veramente a me ma penso che anche ai nostri amici telespettatori e penso che ci sarebbe veramente da parlare per ore e ore con lei perché mi credo che veramente tutti questi argomenti sono assolutamente affascinanti ai giorni nostri e magari non se ne parla abbastanza. Però chiaramente continuando a parlare di quello che fa lei chiaramente come perito, chiaramente lei è un perito anche a livello internazionale, ricordiamo che ha esibito delle perizie su delle opere, come abbiamo detto in Svizzera, ma anche nel Principato di Monaco. Sì, a Monaco sono stato dichiarato perito di parte in un processo penale a Roma, perito di parte, quindi non della Procura ma di parte, perché 13 opere sono state dichiarate, depositate in un cavo a Monte Carlo, falsi. Ma parliamo di quattro Van Gogh, quattro Picasso, un Bacon, Andy Warhol, quindi opere importanti. Sono stato convocato perché chiaramente il primo impatto, sapete è difficile, sia quando c'è un sovrintendente che dichiara e un nucleo dei Carabinieri che dichiarano che le opere sono false, ho dovuto prendere con le pinze il tutto. Ho affrontato il tema, più sono andato avanti e più mi sono reso conto che non erano falsi. Anche perché Paolucci, il Ministro dei Beni Culturali, il Direttore dei Musei Vaticani, in origine ha dichiarato per il scritto che erano opere vere. Quindi questo processo che è ancora in atto, di cui ho scritto già 450 pagine di perizia sulle opere, documentando che secondo me sono tutti originali. Ma non lo dico a livello come fanno molti, iconografico, sia molti periti che fanno, addirittura non so come fanno, studiano le opere dalle foto, ma è una cosa in vera e conta, si devono vergognare, lo dico pubblicamente. L'opera va vista, va toccata, va verificata. Quello che manca oggi, io che per fortuna sono all'avanguardia su questo, perché ho pubblicato nel lontano 1981 la prima rete informatica dei beni culturali, perché ho investito sui computer per fare proprio la rete informatica, ma parliamo dell'81, sono precursore di tutti. Io con l'informatica arrivo a verificare delle cose che altri non vedono. Quindi un'opera, queste opere, io le ho verificate anche a livello non solo archivistico e tutto, ma sono subentrato inizialmente sulle foto d'alta definizione che avevamo, ha subentrato dentro. Poi con delle mie tecnologie, per esempio, vi posso far vedere come, in che modo arriva questo. Arriviamo a questo, vedete questa è la Gioconda, questa è la mia foto, questa è con il mio scanner. Ma come fa? Lei è andato a Louvre? È andato forse a Louvre? No, io non sono andato a Louvre. Ho chiesto l'autorizzazione della documentazione, ho acquisito tutte le fonti fotografiche con le foto che erano state fatte dalla Gioconda, tutte le foto. Dalle foto sono entrato dentro le foto e grazie però a un'intuizione iniziale, perché così è stato l'incontro con Annalisa di Maria, lei aveva visto Platone qua nella spalla di Leonardo. Platone, non è possibile, ma come? Platone. Invece sì, io ho affrontato il discorso e ho scoperto che in pratica uno studio di specchi che già Leonardo aveva scritto, Leonardo aveva scritto molto sugli specchi, perché nel Cinquecento gli autoritrati si facevano con gli specchi, chiaramente, perché come faceva a fare una ritratura artista? Con un gioco di specchi. E in pratica che aveva fatto? aveva il busto di Platone che sta nel Museo del Belvedere al Vaticano e l'ho documentato qua dentro insieme a Annalisa, è stato rovesciato, è stato posto in un modo perché c'era il famoso discorso come Michelangelo che ha nascosto, e tutti ormai l'hanno detto, sulla Cappella Sistina si vede il cuore, si vedono le cose esoteriche, chiamiamole, non volevo fare esoterismo, io faccio scienza. E quindi ho visto che questo Platone era stato rovesciato, scoperto da Annalisa. Io ho scoperto un'altra cosa con questo studio, è uscito fuori un ramarro sul braccio della Gioconda, è uscito fuori un ramarro. Questo è il Platone su tutti gli studi e questo è il ramarro che è uscito fuori. Ma è evidente. Ma chi conosce il Vasari, ecco qua, vedete, questo è il ramarro che è uscito fuori. Già dei disegni, Leonardo ha messo dei draghi, dei piccoli draghi, delle piccole rappresentazioni. Pochi sanno che Leonardo era uno che è un burlone e Vasari lo dichiara e da lì ho collegato tutto. Leonardo aveva preso, in pratica, una lucertola, l'aveva dipinta tutta d'argento e messo le ali e messe in una scatolina. Questo lo dichiara Vasari. Lui si divertì, apriva la scatolina e diceva questo è il mio drago. Ecco da lì è uscito fuori, senza volere, perché ho visto due occhietti in viso, una forma, su questo braccio della Gioconda. Ed è lì uscito fuori il ramarro. Quindi questo è affascinante verificare, grazie a una sensibilità che ho probabilmente diversa dagli altri, a verificare quello che gli altri non vedono. Mi raccontava in una bellissima chiacchierata che abbiamo fatto che a lei sarebbe piaciuto proprio quest'anno organizzare una bellissima mostra su Leonardo proprio a San Marino. Certo, perché il mio Leonardo a San Marino non è il solito esposizione di opere. È un Leonardo che deve interagire con la didattica, con i ragazzi, con la persona che va a vedere, che deve capire. Perché le mostre non devono essere solo un aspetto espositivo, perché uno passa davanti, guarda l'opera, ma con poche ditascalie. No, deve essere proprio un qualcosa di particolare, quindi interagire la mia esperienza, trasferirla in una forma didattica con pannelli, con le spiegazioni, anche come si costruisce un laboratorio, tutti i vari passaggi. La gente secondo me è interessata, perché la gente vuole sapere. Quando va a una mostra, la gente non va lì solo per vedere le opere, vuole sapere, vuole conoscere. Perché sennò va da un'altra parte, non ha significato che qualcuno vada lì in quello spazio. Quindi sarebbe veramente bello riuscire a poter rappresentare Leonardo in questo modo a San Marino. Cosa che mi è stata difficile perché con il Covid mi si è bloccato tutto. Sempre chiaramente in collaborazione con Cuciuc, ricordiamo. Ah no, in collaborazione con Cuciuc, in collaborazione con il gruppo dei giornalisti di San Marino, in collaborazione con lei chiaramente anche. Beh, questo assolutamente io ne sarei assolutamente onorato. Bene, signor Pariani, io la ringrazio. Volevo solo finire l'ultima cosa. Abbiamo parlato sempre dei grandi mostri, grandi cose. A Urbino ho organizzato ultimamente, in un momento di Covid, quando non era possibile, grazie al sindaco di Urbino, al presidente del circolo, una mossa per un artista che sto curando che è Denise Camporesi, Molecole d'angeli. Una cosa molto particolare. Quindi non solo Pariani che cura i grandi artisti, ma Pariani che cura anche gli artisti emergenti. Questo è importante, questo vorrei precisarlo, proprio in chiusura di tutto. Beh, assolutamente, anzi, qui sponda una porta aperta, beh, giustamente i giovani artisti che magari hanno poco spazio, magari diciamo che non incontrano magari le persone che, insomma, diciamo, le supportano abbastanza. Poi diciamo che purtroppo la scuola di per sé non è che supporta anche troppo l'arte, ma allo stesso tempo purtroppo diciamo che, insomma, diciamo che si è evolsa in una scuola un po' troppo nazionistica che supporta ben poco sia l'arte, ma anche le persone che magari, gli studenti che scelgono anche determinati tipi di cultura, ma soprattutto anche di sport, perché chiaramente sono dei settori importanti l'uno con l'altro. Bene, che dire, io la ringrazio veramente ancora per la benissima chiacchierata, ringrazio tutti gli amici telespettatori che sono stati con noi e ci vediamo nel proseguimento dei nostri programmi. Da Axel Paderni, da Dogana, San Marino è tutto. Vieni alla regia. Grazie a tutti.